Hello buddy guys, benvenuti in questo nuovo video, come avevo accennato dal posto YouTube continuiamo con la terza edizione della Dragon Cup per il formato Edison con premio assicurato. Quindi, qualora tu fossi interessato a partecipare, ti consiglio vivamente di guardare il video dall'inizio alla fine in vista delle importanti informazioni che ti comunicherò. Il torneo si svolgerà il 25 novembre dalle ore 15 su Dueling Book e sul mio Discord, punto su cui premerò abbastanza e fra un po' vi spiegherò il motivo. Il torneo sarà gestito come in un local, quindi tramite i turni svizzera, che dureranno all'incirca 45 minuti e, a loro volta, il numero di turni e la top varieranno in base ai partecipanti. Il metodo di duello è il classico, quindi 2 out of 3, quindi bisogna ottenere 2 vittorie per vincere. Come al solito, essendo un torneo online ed imparando anche dagli errori del passato o delle scorse edizioni, dovrò essere un minimo rigido sulle tempistiche ed anche su alcune questioni. Punto numero 1. Una volta stabiliti i turni, è assolutamente obbligatorio entrare nelle stanze cliccate al torneo sul mio server Discord, in base al numero del tavolo assegnato. Che possiate parlare o meno non è importante, anzi, contrariamente lo è la vostra presenza per organizzarvi e giocare quindi meglio. Punto numero 2. Se l'avversario non si presenta, ma soprattutto non vi comunica in alcun modo la sua presenza entro 5 minuti, contattatemi in privato. Allo scadere di questi darò vittoria al giocatore presente e sconfitta all'assente. Punto numero 3. Ho introdotto una nuova regola, per così dire, anche nei miei tornei, ossia la famosa regola dei 4 turni. Quindi, caso che dovessero finire i minuti disponibili, dal giocatore di turno dallo scadere dei minuti, per 4 turni, di conseguenza è come se fossero 2 turni a testa, vincerà il giocatore con il maggior numero di life points alla fine di questi. Punto numero 4. Comunicate in caso di drop. È un evento gratuito con il premio, quindi in ogni caso io vi sconsiglierei di farlo anche per rispetto degli altri che vorrebbero giocare o provare il formato. Punto numero 5. Per quanto scontato, tendo a dirlo per sicurezza, non potrete cambiare decklist e le carte quindi al suo interno durante lo svolgimento del torneo. Ultimo e sesto punto, ma non meno importante, in caso di dissing, comportamenti fastidiosi o tossici, comunicate direttamente a me il problema. Molto probabilmente sarò in live su YouTube cercando di ridurre anche la differita, di conseguenza agirò e nell'immediato. Spiegate quindi le dinamiche del torneo, ecco come iscriversi in pochi semplici step tramite Google Form. Basterà quindi compilare i seguenti dati e premo un sacco sul nickname Discord. Questo perché durante la scorsa edizione ho avuto nickname diversi appunto fra il nickname di Dueling Network, quello vero, e quello di Discord, quindi mia colpa. Nome, nickname Discord, nickname di Dueling Book per sicurezza, e di seguito il link per il mio server Discord, dove saranno presenti le stanze dedicate allo svolgimento del torneo. Per quanto riguarda invece la decklist, come potete vedere, non l'ho reso obbligatoria, però dovrete mandarmela entro le 14 del 25 novembre, che sarà la conclusione delle registrazioni. Tutto molto bello, ma quindi cosa si vince? Il vincitore si prenderà gratuitamente una trappola a botola coreana che spedirò direttamente a casa sua, o, se siete nelle zone di Roma e frequentate gli stessi negozi che bene o male frequento io, ci incontriamo in loco e ve la porto direttamente. Inoltre, se saremo abbastanza, aggiungerò un altro piccolo premio al vincitore. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino a questo punto, lasciate sempre un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, questo aiuta tantissimo allo share appunto del video e del canale soprattutto, e spero di trovarvi numerosi quindi alla prossima edizione della Dragon Cup, e ci vediamo lì o ad un prossimo video. See you next time!